Buongiorno, ben trovati, mercoledì 20 febbraio, nuovo appuntamento con la nostra consueta rassegna la lettura dei quotidiani oggi in edicola, l'apertura dedicata come sempre alle prime pagine dei giornali abruzzesi partiamo dal centro, l'edizione di Pescara, il titolo di apertura riguarda la cronaca, l'ennesimo blitz a Rancitelli scatta la tolleranza zero, blitz e nuove arresti, quest'ora il quartiere dice va riqualificato vedete a centro pagina poi la notizia, la cronaca giudiziaria, Jennifer l'omicida torna in aula con l'obiettivo di dimezzare la pena, la ragazza pescarese uccisa dall'ex fidanzato e poi in basso reddito di cittadinanza, uffici assaltati dai cittadini anche a Pescara in migliaia si sono rivolti ai CAF, all'Inps e al centro per l'impiego, per avere informazioni vediamo anche di spalla altri titoli che riguardano Pescara e provincia partiamo dalla parte alta della pagina, la politica per l'elezione amministrativa che ci sarà le elezioni che ci saranno a maggio Russo dichiara al centro-destra non mi candido, il nome dell'imprenditore era circolato nei giorni scorsi ma Michele Russo ha escluso un suo coinvolgimento alle prossime elezioni comunali del 26 maggio, vediamo anche più in basso Pescara via agli esami di Stato ma è una simulazione, poi vediamo in basso la politica ci porta a Montesilvano dove potrebbe nascere una grande coalizione contro la Lega all'interno del centro-destra vediamo ancora la politica, la nuova giunta regionale asse tra Bellachioma e Pagano, i due coordinatori regionali rispettivamente di Lega e Forza Italia per far fuori i fratelli d'Italia e poi il voto in Abruzzo, comunali 99 centri abruzzesi tornano alle urne e dunque si inizia a pensare ai prossimi appuntamenti elettorali vediamo un'altra notizia che riguarda la Corte dei Conti l'assenteismo in Abruzzo, un record di inchieste da parte proprio della Corte dei Conti vediamo anche la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro favori e pressioni in cambio di voti, Chieti in procura un verbale sui rapporti tra associazioni e consiglieri e poi più in basso Orsogna sotto accusa per peculato in tasca alle giocate dell'otto Tabaccaia condannata a due anni e otto mesi vediamo poi di spalla Chieti l'opposizione, il comune e al dissesto e poi Lanciano, giunta Pupillo, il gruppo civico verso lo strappo con la maggioranza e poi Ortona in pieno centro, il parco creato dai volontari vediamo anche la cronaca che ci porta a Vasto in veste fugge, scovato dai cittadini conducente travolge pedone e non lo soccorre i testimoni chiamano i carabinieri vediamo poi in basso un titolo che riguarda lo sport in questo caso Ricci Orgoglio Teatino del basket abruzzese il cestista 27enne e il giocatore della Vanoli Cremona che ha vinto la Coppa Italia dedico questo trofeo alla mia famiglia vediamo anche la prima pagina di Teramo sempre del quotidiano il centro bollette salate, imprese in rivolta nucleo industriale di Teramo Arab sotto accusa per i servizi mancanti e poi paziente al pronto soccorso 24 ore la ASL, niente di sbagliato la replica del primario alla protesta vediamo anche di spalla Castelcastagna rapinata la BCC il bottino è di 10.000 euro e poi elezioni a Giulianova il polo civico diventa alleato della Lega e poi espropri a Teramo il comune cerca l'accordo sul maxidebito vediamo poi più in basso morto in campo nessuna inchiesta Nereto il PM non dispone l'autopsia sull'uomo di 36 anni stroncato da un malore a fondo pagina il personaggio leda l'arte come vocazione dai quadri venduti a Teramo alla Galleria Margutta a Pescara vediamo la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona del centro arrestato Pugile campione d'Italia il marsicano di Berardino fermato all'Aquila si difende cercavo la mia ex e poi fondi per la cultura e caso di Cosimo Biondi sotto accusa siamo all'Aquila consiglio comunale di fuoco e Vacca smentisce il primo cittadino vediamo poi in basso picchia la moglie e finisce agli arresti l'Aquila maltrattamente alla donna davanti ai figli lei reagisce e fa partire la denuncia vediamo anche altre notizie Giallo sul Mona ex ferroviere ferito e in coma ci sono le indagini poi l'Aquila Teleni assume 120 lavoratori via le selezioni ce l'hanno risarcita la donna operata tre volte in 12 giorni vediamo poi in basso donazione nel nome di Ciccio rugby e solidarietà all'Aquila dal Memorial Sebastiani nuovo strumento per il reparto di pediatria dell'ospedale dell'Aquila prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero politica in primo piano primo vertice sugli assessori domani la riunione dei partiti la Lega vuole quattro posti nella nuova giunta l'analisi sulla segnazione dei voti agli eletti Febbo in consiglio a rischiare e sospiri e poi comunali Pescara al voto tra ex IDV tra ex IDV per la carica di sindaco perché oltre a Carlo Costantini di cui si era parlato nei giorni scorsi spuntano anzi rispuntano nel caso di dire anche i nomi di Luca De Renzis e di Adelchi sul Pizio tutti ex Italia dei valori poi vediamo la cronaca quartiere Ghetto altra offensiva delle forze dell'ordine nel quartiere Rancitelli a Pescara e poi vediamo il titolo di spalla carne pregiata ma era senza griff via ai sequestri e poi assenteismo e corruzione vedete anche sul messaggero come sul centro il titolo dell'SOS che arriva dalla Corte dei Conti il Presidente Miele illeciti per 4 milioni nella regione e poi la cronaca ci porta a Nereto abbiamo visto anche prima questo titolo addio ad Andrea morto mentre giocava a calcetto vediamo anche qualche titolo nella parte alta della prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero ambiente alluvioni frane teramo guida la mappa del dissesto e poi Giulia Nuova diacono derubato del portafogli in chiesa c'è un sospettato poi il calcio il Pescara dopo la vittoria di Crotone Pilon lucida follia le mie scelte stavolta giuste ha detto il tecnico del Pescara che è stato premiato proprio dalle sue scelte con la squadra che ha risposto sul campo battendo in trasferta il Crotone ne parleremo dopo nella pagina sportiva siamo alla prima pagina invece del quotidiano la città rapina in banca con il taglierino Castelcastagna impiegata della BCC di Basciano minacciata e derubata di 10.000 euro Roseto approvato il progetto di riqualificazione del borgo rinascita di Monte Pagano e poi Cerrano guerra tra Pineto e Silvi batti becco piccato sul destino dei divieti nell'area protetta e poi domani l'addio da Andrea morto sul campo di Calciotto e poi Corropoli ladri in chiesa e nelle chiese e nelle case dei terremotati lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi andiamo a vedere invece i giornali nazionali partiamo dal Corriere della Sera il voto su Salvini agita il Movimento 5 Stelle in giunta passa il no al processo Grillo contestato a teatro ci hai venduti Lira di Renzi hanno arrestato mia madre di più non potevano fare Gianrusso mima le manette il PD insorge dunque alta tensione nei partiti politici e poi vediamo più in basso Parigi la morte dello stilista tedesco l'eredità anche alla gatta Lagerfeld un genio oltre tutte le mode vediamo anche un altro titolo che riguarda i centri per l'impiego il caos reddito nessuno sa bene come funziona ne parleremo anche dopo in chiave locale andando a vedere anche un servizio vediamo Repubblica Salvini e 5 Stelle insieme in Europa rivolta a Grillina contro Di Maio Firenze l'inchiesta sui genitori di Renzi un milione di euro non pagato allo Stato e poi allarme antisemitismo nel vecchio continente sciocchi in Francia la croce nazista su 80 tombe ebraiche vediamo anche il quotidiano libero ma quanto godono i nemici di Renzi si estende l'odio che colpì Craxi e Silvio vediamo anche il fatto quotidiano delinquono da anni fermate lì Matteo condono l'evasione IVA questo è il titolo del fatto quotidiano il GIP sui genitori di Renzi 724 mila euro di fatture false o gonfiate in alto il Movimento 5 Stelle salva Salvini collega e Forza Italia la rivolta del 41% che ha detto no sulla rete c'è stato questo sondaggio sulla piattaforma Russo e il 41% degli aderenti al Movimento 5 Stelle degli elettori del Movimento 5 Stelle ha detto no al salvataggio di Salvini andiamo avanti il messaggero nazionale industria allarme nel governo crollano fatturate ordinativi a dicembre vertice a Palazzo Chigi timori di una manovra bis e poi andiamo anche a Roma Campidoglio l'accusa il direttore generale concussione per Ama e poi anche sul messaggero come sul quotidiano del Corriere della Sera c'è l'addio all'Agerferd il Kaiser della Moda lo stilista tedesco guida e icona per Chanel e Fendi vediamo anche il mattino di Napoli crollano export industria nel governo e allarme sui conti e poi De Magistris isolato anche a sinistra europei in bilico il sindaco di Napoli non trova alleati in Italia e in Europa penso che sarà difficile presentare la mia lista detto il primo cittadino partenopeo siamo al sole 24 ore industria gelata a dicembre ricavi giù del 7,3% mai così in basso la produzione industriale nel nostro paese poi il manifesto Sanders vuole finire la sua rivoluzione candidato alle elezioni del 2020 negli Stati Uniti e poi Venezuela Trump va alla guerra degli aiuti e poi il titolo con corredo di foto che riguarda la politica nazionale vedete a questo titolo un po' particolare anonima sequestri la giunta del senato nega l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'interno Salvini indagato dai PM di Catania per il sequestro dei 177 migranti della Diciotti il movimento 5 stelle vota compatto contro anche Forza Italia Di Maio Conte e Toninelli si erano intanto autodenunciati in favore del ministro dell'interno vediamo anche la stampa di Torino Salvini con Di Maio accordo infinito insieme anche nel Parlamento dell'Unione Europea dunque Salvini tende a tranquillizzare proprio gli alleati di governo e poi la notizia della truffa dei diamanti ai VIP per 700 milioni tra i truffati c'è anche Vasco Rossi e poi Roma ostaggio di 27 centri sociali lo scrive il Tempo questo è il titolo principale del quotidiano oggi in edicola la verità tutte le bugie di Renzi sui genitori arrestati questo è il titolo di apertura e poi no al processo per sequestro ma Salvini va alla sbarra per vilipendio dei magistrati e poi il secolo punto it mangiati da Salvini nella giunta Gasparri i grillini fanno maggioranza con il centrodestra per dire no al processo avvenire desiderio perduto il 55 scusate il 55% degli adulti non vuole avere figli per problemi economici o di coppia e per le adozioni i tribunali del sud restano indietro decine di casi bloccati e poi il caso la Francia si mobilita contro l'antisemitismo cimitero profanato cortei e gesto di Macron vedete questa foto abbiamo visto anche prima un titolo su Repubblica di questi simboli del nazismo che sono stati lasciati su alcune tombe ebree e poi la politica nazionale la giunta non al processo Salvini e Di Maio in festa lasciamo dunque con avvenire l'ultimo quotidiano per quanto riguarda l'edicola nazionale possiamo tornare ai giornali abruzzesi ripartire dal centro da pagina 2 per parlare di politica perché si parla e si pensa alle comunali e alle amministrative che ci saranno nella nostra regione vedete alle urne 99 centri d'Abruzzo i cittadini interessati sono oltre 400 mila dunque quasi un terzo dell'intera popolazione abruzzese la data quasi certa è quella del 26 maggio dovrebbe esserci l'election day con le europee campagne elettorali al via tra i centri in cui si voterà i centri maggiori vedete Pescara Montesilvano e Giulianova dove è possibile il ballottaggio la provincia di Chieti ha più comuni 51 interessati dal voto e vedete poi l'elenco dei comuni in cui si voterà andiamo in basso per parlare di quello che accade in casa del Partito Democratico perché per Renzo Di Sabatino segretario regionale pro tempore il tempo è già finito perché si va alle primarie per l'elezione del nuovo segretario regionale del partito intanto la partita scusate il gioco di parole della regione è tutta incentrata sulla formazione della nuova giunta spunta l'asse Bellachioma Pagano dunque Lega Forza Italia per prendersi tutto domani sera l'incontro decisivo dei partiti di centrodestra Lega e Forza Italia puntano a mettere fuori gioco Fratelli d'Italia e Zelli di Azione Politica leader della lista civica Azione Politica siamo ancora alle pagine d'Abruzzo del centro corte dei conti l'Abruzzo diventa regione con record di assenteismo intervista al presidente miele corruzione clientelismo spreco delle risorse e opere pubbliche non completate il danno allo Stato si aggira sui 4 milioni e intanto oggi a Chieti l'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto Monsignor Bonoforte celebrerà una messa per il tribunale ecclesiastico perché si apre il nuovo anno proprio del tribunale ecclesiastico e venerdì all'Aquila ci sarà invece restando in tema l'inaugurazione dell'anno giudiziario vediamo poi in basso Spedali la consulta insiste il DEA a Pescara si parla di sanità e chi insiste per avere il DEA a Pescara dice che non si tratta di un fatto campanilistico lo dicono Ciofani e Cesaroni ma di una previsione di legge dunque questa l'opinione che riguarda proprio questo argomento molto sentito del DEA che dovrebbe nascere all'ospedale di Pescara oppure all'ospedale di Chieti vediamo anche le pagine dalle province apriamo con Pescara contributo del governo conto alla rovescia corsa al reddito di cittadinanza presi d'assalto gli uffici pescaresi CAF patronati INPS e centro per l'impiego due settimane dalla presentazione delle domande migliaia di aspiranti beneficiari chiedono assistenza per il calcolo ISE per la verifica dei requisiti previste nuove assunzioni 50 precari prendete noi ci sono i precari dei centri per l'impiego che chiedono l'assunzione a tempo indeterminato ci sono dei problemi uffici presi d'assalto la prima erogazione dal 27 aprile per quanto riguarda il reddito di cittadinanza ma come detto c'è agitazione proprio nei centri per l'impiego se ne è parlato ieri in una conferenza stampa che hanno tenuto gli esponenti dell'USB l'Unione Sindacati di base possiamo andare a vedere dunque il primo servizio 4 mila lavoratori dovranno entrare nei centri per l'impiego nelle regioni di tutta Italia abbiamo decine e decine di lavoratori già impiegati in questo servizio in Abruzzo noi chiediamo che la regione Abruzzo si faccia garante nel garantire appunto a questi lavoratori un rimpiego all'interno dei centri per l'impiego sono lavoratori che hanno maturato anzianità di servizio hanno maturato competenze per far sì che il reddito di cittadinanza possa essere una misura efficace c'è bisogno di lavoratori preparati loro sono già pronti non vediamo per quale motivo bisogna girare lo sguardo da un'altra parte noi rappresentiamo appunto i precari di tutta la regione che chiedono attraverso questa circostanza di rientrare negli uffici dei centri per l'impiego e quindi di non disperdere tutto questo patrimonio e l'esperienza che è stata acquisita negli anni e chiediamo di far presto perché noi poi sappiamo come fare cosa fare e quindi di rientrare immediatamente anche per rendere attiva ed efficace la misura del reddito di cittadinanza e questo dunque il servizio andiamo avanti verso le elezioni siamo sempre alle pagine di Pescara del quotidiano il centro russo avverte il centro-destra non mi candiderò a sindaco il centro-sinistra il PD cerca un accordo per le primarie e poi cantine sotto tetti abitabili scontro in aule Movimento 5 Stelle presenta 39 emendamenti vediamo poi più in basso bar e pub in arrivo nuove regole commissioni commercio e gestione del territorio partito l'esame delle norme per l'installazione di gazebo e deor omicidio sterlecchini fissato l'appello Jennifer l'omicida torna in aula obiettivo dimezzare la pena fissato al 14 marzo il processo di secondo grado a carico di Davide Trovilo condannato a 30 anni violenza sulle donne a teatro tre storie vere questa sera e domani all'aurum va in scena sguardi svelati in collaborazione con polizia e comune vediamo anche la prossima pagina siamo ai controlli del territorio a Pescara soprattutto nel quadrilatero che riguarda Rancitelli tolleranza a zero altri arresti le forze dell'ordine tornano a distanza di pochi giorni in via Tavo identificate 80 persone in carcere una donna di 76 anni c'è anche gente per bene quartiere da riqualificare lo dice il questore di Pescara Francesco Misiti è sempre a Pescara Ergastolano arrestato l'uomo 53 anni non è rientrato dal permesso premio nella sua abitazione andiamo avanti nuova maturità si prova l'esame di stato a febbraio no è soltanto una simulazione anche gli studenti pescaresi alle prese con il test della prima prova scritta disposta dal ministero la prima traccia da Pascoli a Elsa Morante e tra i ragazzi c'è chi si è svegliato all'alba per ripassare malattierare 168 pazienti certificati nell'ultimo anno siamo ancora a Pescara la talassemia è tra le patologie più ricorrenti rilevate allo sportello della ASL centenari ma soprattutto bambini tre pazienti provenienti da tutta la regione sicurezza stradale 480 mila euro di interventi San Giovanni Tiatino approvata la previsione degli incassi da multe metà della somma a opere e progetti poi in basso vestiti anni venti per il carnevale l'agenzia cronosfera organizza manoppello una speciale festa in maschera siamo a Montesilvano verso le comunali perché il centro adriatico sarà tra le città più importanti dove si andrà alle amministrative e potrebbe nascere una grande coalizione per contrastare la Lega l'ex assessore di Giacomo raduna in assemblea ex ed attuali amministratori e lancia la proposta di superare gli attriti del passato per unire le forze civiche il progetto Chioschi approda in consiglio la proposta di d'aventura e poi andiamo più in basso strade private a uso pubblico subito una ricognizione a Montesilvano lo chiede Gabriele Di Stefano del gruppo misto e poi Nuova Pescara rifare il referendum appello dell'assessore De Vincentis e del consigliere Tocco della Lega al governo regionale ancora Montesilvano Via Tamigi stop al senso unico aspettiamo l'Enel l'assessore Cozzi diffida l'impresa che sta prolungando i lavori e a Città Sant'Angelo elezioni il Movimento 5 Stelle pensa a Smarrelli anche a Città Sant'Angelo si tornerà al voto a maggio Montesilvano aperti due nuovi cantieri per marciapiedi e condotte idriche in basso la potatura spiegata agli alunni iniziativa dell'Università della Terza Età con l'Istituto Comprensivo Rodari sempre a Montesilvano ci spostiamo a Francavilla al mare la cronaca cade dal palazzo comunale salvo operaio di 50 anni l'incidente nel cantiere di Corso Roma l'uomo è scivolato e si è aggrappato ai tubi dell'impalcatura trascinandosi lì giù ricoverato per sospette fratture andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta nell'area Vestina i turisti scoprono il voltigno ma abbiamo bisogno di servizi Villa Cegliere il sindaco Vespa convoca un vertice con Enteparco provincia di Pescara e Regione e poi a Cepagatti Ponte Chiuso a Vallemare Sborgia scrive al presidente della provincia di Pescara Zaffiri Bussi sul Tirino mancata bonifica ministero responsabile il sindaco la gatta contro i dirigenti del di Castero contratti sottoscritti in grave ritardo ha detto il primo cittadino ci spostiamo nella parte bassa della pagina andiamo a Manoppello eccola qui servizi legali stop all'affidamento l'opposizione teme irregolarità nel bando e diffida il segretario siamo alla pagina di Chieti del centro pressioni dei consiglieri associazioni favorite in cambio di voti finisce in procura il verbale di una seduta di commissione immobili comunali assegnati senza regole e canoni mai riscossi poi più in basso la CNA Camera di Commercio svolta rapida l'associazione degli artigiani chiede che il nuovo presidente che prenderà il posto di Angelucci che si è dimesso possa pescare proprio all'interno delle associazioni oggi occhi puntati su Confindustria andiamo avanti siamo a Chieti in tasca le giocate dell'otto condannata pena di due anni e otto mesi per una tabaccaia di Orsogna e poi casa Canditella non chiude la lavanderia sindaco a processo andiamo in basso la cronaca giudiziaria picchia il compagno e si getta dal balcone donna di 49 anni finisce in ospedale dopo una lite scoppiata per due cellulari regalati ai figli ancora cronaca investe e fugge scovato grazie ai cittadini a vasto conducente travolge un pedone non gli presta soccorso i testimoni avvisano i carabinieri siamo a Lanciano don Andrè se i testi lo difendono era come un padre di famiglia lanciano un nuovo udienza per l'ex paroco accusato di violenza privata lesioni minacce e molestie faceva il giro della chiesa in ginocchio in preghiera senza imporlo a noi le frustrate fantascienza e intanto ad Atessa Lampi di Atessa dice regionali voto di sfiducia alla giunta ancora Atessa Travaglini si espande nel trasporto l'azienda diventa uno dei primi operatori nella spedizione scusate di moto a Tollo siamo sempre in provincia di Chieti nasce la bottega del matrimonio piccoli imprenditori uniti per dare servizi nei momenti della cerimonia andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta a Teramo cartelle di pagamento contestate vedete il titolo di apertura di pagina 28 nucleo industriale imprese in rivolta domani una riunione tra le aziende aderenti all'Api per decidere quali iniziative legali intraprendere contro l'Arap e poi università due giorni di dibattito sui social media ed enti pubblici e poi ancora bellante truffa delle false multe bollettini lasciati sulle auto ma i vigili non hanno fatto contravenzioni siamo in provincia di Teramo quarto arresto per un rifugiato a Campli il giovane africano entra con la forza in un altro centro di accoglienza e poi Teramo al pronto soccorso 24 ore la ASL paziente curato correttamente l'anziano aveva protestato per aver passato tutta la notte dolorante su una barella senza diagnosi per il primario facente funzioni di Gian Giacomo non c'è nulla di sbagliato nella prestazione parliamo anche del teatro romano di Teramo Raiola i cittadini dice devono esprimersi sul nuovo progetto andiamo avanti siamo a Nereto la tragedia del giovane morto in campo non ci sarà l'inchiesta il PM non dispone l'autopsia domani i funerali del 36enne agente di commercio stroncato prima di cominciare la partita parla anche un medico sportivo è importante dice visitare anche chi non fa attività agonistica a Santomero politica in lutto è morto Vincenzo Frato aveva 71 anni era stato il portavoce dell'ex sindaco Fucilitti e domani a Corropoli bullismo e legalità convegno organizzato dal locale scuola la cronaca ci porta a Castel Castagna sempre nel Teramano dove banditi armati di taglierino rapinano la banca colpo da 10.000 euro in due agiscono a volto coperto e minacciano la dipendente siamo ad Atri prima Atri il comune non metta una scuola nell'edificio abusivo la struttura di cemento è nella riserva naturale dei Calanchi e doveva essere demolita già da tempo i consiglieri Giuliani e Prosperi l'amministrazione dicono tenta di salvare un bene che va solo abbattuto siamo a Silvi parla il sindaco Scordella Polverone sulla zona delle Dune sindaco replica Pineto partecipativa sconcertante che voglia dettare legge sul territorio di Silvi dunque botta e risposta tra Silvi e Pineto in basso torniamo a parlare dei danni delle mareggiate dei giorni scorsi sulla costa abruzzese a Silvi in particolare gli operatori turistici chiedono certezze sugli interventi siamo la pagina dell'Aquila del centro lite tra il comune e il ministero sui fondi cultura è uno scontro istituzionale sottosegretario Vacca al sindaco Biondi merito mio e del Mibac il recupero dei 10 milioni tagliati alle associazioni addio a Massari imprenditore del turismo altoaterno in lutto oggi a Monterreale ci saranno i funerali del mecenate del calcio fu anche manager al centro turistico ad Avezzano arrestato il pugile campione d'Italia di Berardino bloccato all'Aquila per aver violato le disposizioni del tribunale detiene il titolo dei pesi massimi tradito vedete in alto il affianco al titolo tradito dall'amore all'Aquila picchia la moglie davanti ai figli arrestato l'Aquila ai domiciliari 50 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni la donna lo denuncia e sotto i ferri tre volte in 12 giorni risarcita donna di Celano avrà 177 mila euro per il taglio di un tratto d'intestino il giudice condotta sanitaria imprudente siamo a Sulmona il giallo di via Tacito ferito in coma si sospetta l'aggressione ex ferroviere di 61 anni trovato sul pavimento di casa dalla figlia emersi dubbi dopo l'ispezione della squadra anticrimine del locale commissariato ancora Sulmona madre e figlia restano ferite nello schianto all'incrocio soccorse nella scarpata e poi invece nella Marsica a San Benedetto dei Marsi c'è stato un incidente d'auto prima della scomparsa coinvolti due giovani che accompagnavano a casa il 51enne Collinzio Dorazio ricerche estese anche al Giovenco siamo arrivati alle pagine dello sport allora possiamo fermarci per questa prima parte della nostra rassegna stampa andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore poi torneremo in studio per continuare a leggere i giornali seconda parte di mattino 6 siamo le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero pagina politica in primo piano i nuovi assetti regione primo vertice per la nuova giunta Marsilio non ci sarà il neo presidente non vuole prendere da subito impegni sugli assessori intanto ci sono altre indiscrezioni sugli eletti Febbo in consiglio a rischiare e sospiri sempre di Forza Italia turismo i bed and breakfast si schierano contro la nuova legge e poi centri per l'impiego appello dei precari assumete prima noi abbiamo visto anche il servizio in basso si parla della mappa del rischio con il comune più esposto che è quello di Teramo rischio di frane e alluvioni in questo senso siamo a Pescara Angelucci inconcordato per la OMA svelate le vere ragioni che hanno spinto l'imprenditore a dimettersi dalla presidenza della Camera di Commercio di Chieti Pescara ieri la richiesta al Tribunale per l'attivazione della procedura le difficoltà del gruppo siderurgico causate dalla controllata estera tre redi di Di Pietro in corsa per la poltrona da sindaco siamo invece alla politica per le amministrative di Pescara Costantini Sulpizio e Derensis tornano da protagonisti sulla scena politica dopo i trascorsi con l'Italia dei valori tavolo del lancio in commissione per arginare il rischio default emergenza risorse siamo sempre a Pescara i dirigenti Dezio e Ruggeri invitati a relazionare dal presidente Bruno l'assessore Presutti vertenza nazionale andiamo avanti professori e studenti testano la maturità simulazione del nuovo esame di Stato a Pescara e poi scompare durante un permesso premio a Pescara arrestato il killer dei poliziotti e poi sguardi svelati il racconto della violenza di genere con il teatro sociale proseguiamo siamo alla cronaca di Pescara Rancitelli tra etti di eroina nell'Armanio nuovo blitz delle forze dell'ordine nel quartiere a rischio del capoluogo adriatico intanto ministro e generale appello dei sindaci a costa 18 comuni della Val Pescara sottoscrivono la lettera di Pino De Dominicis per la bonifica del sito di Bussi vediamo un altro titolo in basso il gioiello ritrovato Stella Maris torna in auge il progetto dell'Accademia siamo all'Aquila lo scontro si allarga alla cultura teatro stabile abruzzese spaccato sull'appoggio al sindaco biondi e poi carnevale in carico del sindaco a Silveri junior e poi ancora Pineta di Roio approvato progetto di riqualificazione tornando alla politica la nuova giunta fratelli d'Italia e l'Aquila futura quel voto avvertimento avvertimento in questo caso per il primo cittadino biondi in basso maltrattamenti in famiglia altro episodio all'Aquila e sempre all'Aquila nasce la casa educativa della città proseguiamo con l'altra pagina dedicata al capologo di regione porta barete concorso per accelerare la giunta ha approntato una delibera vedete il titolo di pagina 41 per stringere i tempi sulla riqualificazione di una delle aree strategiche della città e poi il discorso nell'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Presidente Miele preoccupano dice assenteismo e corruzione il comune butta all'immondizia significativa installazioni artistiche questo è il tacquino dell'arte con l'Aquila in primo piano andiamo ancora avanti la pagina di Avezzano sul Mona alunni e cim nello stesso stabile e polemica la notizia dello spostamento all'anoesis degli ambulatori scatena la protesta dei genitori cascere dice solo un equivoco ortucchio arrivano gli impianti elettrificati anti orso Avezzano spaccio di droga assolto dopo undici mesi di carcere sul Mona trovato con gravi ferite dentro casa indagini in corso Avezzano eligi del Movimento 5 Stelle ecco il registro della biogeneralità e poi sul Mona il polo fermi scelto da Microsoft e poi ancora in basso arrestato per evasione noto pugile Marsicano siamo a Chieti scalo parcheggio gratuito e una piazza grazie ai privati il sindaco di Primio noi basta giardini nei condomini pagati dal comune fondazione la politica estranea alla fusione CDA e comitato intervengono sull'accordo con il Banco di Napoli noi protagonisti dell'operazione e intanto sulla ASLE scontro sul manager Flacco e poi formula ambiente stipendi a rischio oggi assemblee e sindacati dopo l'incontro con i vertici del consorzio parlano di mancanza di fondi e poi sui debiti dicono intervenga la commissione bilancio cronaca giudiziaria abusi sulla disabile crolla l'accusa proseguiamo pagina di Lanciano Vastortona a Pontile Lumaca esonerata la ditta siamo a Vasto la fine dei lavori era prevista per marzo 2018 ma a causa dei ritardi il comune ha deciso di rescindere il contratto Lanciano il processo al sacerdote forse a luglio la sentenza con don Andrè preghiere e nessuna violenza alcune testimonianze in tribunale a favore del sacerdote Ortona istituto Tostiano c'è il programma e poi in basso ancora Lanciano telefonate a sbafo assolti infermiera e centralinista Vasto fugge dopo l'investimento trovato grazie alla collaborazione dei cittadini Lanciano Lucchetti Rotti nell'edificio sgomberato arrivano i vigili urbani andiamo ancora avanti siamo a Teramo la periferia abbandonata dovete aiutare anche noi con l'atterrato il dramma dei residenti degrado sfollati e crollo degli affari la ricostruzione non è mai iniziata chi può fugge il posto agli immigrati premio Teramo rilancio con opere già pubblicate si torna a parlare di questa importante iniziativa lo si è fatto ieri nel corso di una conferenza stampa che ha seguito per noi Tania Bonnici Castelli allora possiamo andare a vedere il servizio che riguarda proprio il premio Teramo presentata dall'amministrazione comunale di Teramo la 45esima edizione del premio Teramo per un racconto inedito una delle manifestazioni letterarie più longeve e prestigiose del panorama culturale italiano alla prima edizione nel 1959 parteciparono 76 concorrenti ma già l'anno successivo pervennero 322 racconti che aumentarono di anno in anno fino agli 800 delle recenti edizioni si tratta di una formula quella del racconto inedito e dall'altro di una tradizione letteraria davvero dignitosissima che fa di Teramo un punto di riferimento per chi predilige e percorre questo tipo di letteratura questo tipo di modalità letteraria che racconto evidentemente premio sottolineare da questo punto di vista che compito di questa amministrazione che si è insegnata soltanto praticamente nel luglio del 2018 è quella di riattivare riannodare quelle fila spesso recise negli ultimi anni che ha impedito che il primo teramo avesse una sua cadenza annuale e quindi una continuità non soltanto temporale ma una continuità sotto il profilo strettamente culturale oltre che temporale da questo punto di vista siamo riusciti a bandire in tempi credo sostanzialmente ravvicinati la 45esima edizione in due sezioni una sezione speciale di cui si parlerà più tardi evidentemente in maniera più diffusa e nel premio tradizionale del racconto inedito che avremo modo poi di valorizzare al momento della manifestazione finale che si svolgerà sicuramente a ottobre comunque nell'autunno corrente le novità le novità di questa nuova edizione per quanto riguarda il bando e quindi l'invio di racconti inediti non ci sono variazioni rispetto al passato c'è una novità all'interno del regolamento la sezione premi speciali abbiamo aggiunto un articolo nel quale abbiamo istituito il premio speciale per una raccolta di racconti edita quindi ci apriamo anche all'edito e aprendoci all'edito questo fatto viene bilanciato però che noi ripaniamo sempre nell'ambito della narrazione breve l'istituzione del premio Teramo fu strettamente legata ad un tragico evento nella notte del 18 marzo del 1959 in un terribile incidente stradale furono coinvolti otto giovani studenti teramani e quattro di essi persero la vita stipati a bordo di un'unica vettura si erano recati a Pescara per partecipare ad uno degli incontri che gli universitari abruzzesi organizzavano nel tentativo di favorire la nascita di un ateneo abruzzese per ricordare quei giovani nell'ambito delle manifestazioni del giugno teramano fu bandita la prima edizione del premio letterario Teramo per un racconto inedito che tranne un'interruzione di otto anni dal 1978 al 1986 continua il suo cammino e si conferma come una delle più prestigiose manifestazioni letterarie restiamo a Teramo fuga al capolinea ricercato si costituisce e dice non ce la faccio più in basso discarica assolto il sindaco di Mociano Giuliano Galiffi e poi welfare emergenza casa mediazione per far abbassare gli affitti proseguiamo pagina della provincia di Teramo ruba in chiesa e finisce alla sbarra siamo a Giulianova Renato Di Zio 34enne di Pineto faceva spesso visita al Duomo di San Flaviano si è aperto ieri il processo nel tribunale di Teramo mercato coperto nel mirino dei comitati siamo sempre a Giulianova quartiere Lidio annunziata insieme per arginare la desolante situazione di piazza dalla chiesa in basso Andrea e il calcetto fatale domani l'addio al 36enne Basciano rapinano la banca e fuggono a piedi indagini in corso alba adriatica ora sistemate quei viali disastrati e poi ancora in Val Vibrata ma a Tortoreto la crisi della celta venerdì a Proda in Comune siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo però andare a vedere insieme prima di parlare di sport le pagine interne del quotidiano la città ripartiamo da pagina 2 dalle regionali e dunque dalla politica perché slitta la proclamazione degli eletti conteggia ancora in corso la corte d'appello dell'Aquila si pronuncerà tra giovedì e venerdì la protesta degli operatori dei BNB contro la delibera che li trasforma in esercizi d'impresa vediamo poi più in basso carni scadenti spacciate per alimenti di qualità due persone denunciate dai carabinieri del NAS poi l'Aquila teatro stabile paga le tensioni nella maggioranza Teramo il Comune vuole evitare la stangata per un esproprio di 50 anni fa e propone 750 mila euro agli eredi Merlini per chiudere la vicenda es proprio in basso strada dei parchi furgone si schianta lo svincolo di San Gabriele ferite autista e passeggero del Blankadesh diretti a Teramo in arrivo altri due primari all'asle di Teramo fascione in cima alla lista per l'ortopedia di Atri Santarelli primo per ostetricia e ginecologia all'ospedale di Santomero l'Università di Teramo la pubblica amministrazione a lezione di social media Via Longo siamo ancora a Teramo torna a disposizione degli inquilini al tavolo dell'osservatorio per il diritto alla casa prese le prime decisioni sull'emergenza abitativa e al Teramo raccolte dieti di giuria popolare presentata la 45esima edizione del premio abbiamo appena visto il servizio di Tania Bonnici Castelli il museo del gatto così non può funzionare appena 25 visitatori nell'apertura di tre ore per la giornata mondiale del felino nel resto dell'anno quasi il nulla protezione civile di Ubaldo lascia la presidenza della Cives al termine del terzo mandato è stato rinnovato il direttivo teatro romano il tiro del progetto va comunque aggiustato il movimento 5 stelle loda il dibattito sul recupero ma critica alcune scette progettuali dello studio Bellomo Castel Castagna la cronaca rapina con il taglierino alla BCC di Basciano in due minacciano l'impiegata della filiale scappano via con un bottino di 10.000 euro ancora cronaca il migrante questa volta fa eruzione in un casse di Campli quarto arresto per lui in basso a Cermignano Busnavetta per salvare la storica frazione di Poggio delle rose residenti in difficoltà dopo la chiusura della provinciale e la decisione della tua di sospendere il trasporto proseguiamo domani siamo a Nereto l'ultimo saluto ad Andrea Visciano alle 10 nella chiesa del suffragio i funerali del 36enne morto durante una partita di calciotto non ce la faccio più a nascondermi ricercato di Martinsicuro si consegna spontaneamente in questura e in Val Vibrata ladri in azione nel centro storico di Corropoli nel mirino dei malviventi anche le chiese e le abitazioni abbandonate a causa del terremoto Alba Adriatica nuova recinzione per la Bambinopoli Martinsicuro oggi in municipio la premiazione del concorso nazionale del WWF proseguiamo siamo alla pagina di Giulia Nuova piscina per sub pronta in primavera quasi terminati i lavori nei pressi dell'ingresso del Molo Sud del Porto centinaia di pesci fermi sotto le acque della foce del Salinello e poi ancora il Comune concede il Palacastrum per il Carnevale della Solidarietà parliamo anche di politica passaggio alla Lega Costantini non si sbilancia il coordinatore di Forza Italia non conferma e non smentisce l'indiscrezione siamo alla pagina di Roseto degli Abruzzi ecco come rinascerà il borgo di Montepagano via libera della giunta rosetana all'intervento di riqualificazione del centro storico da 140 mila euro gli amministratori incontreranno i cittadini martedì prossimo per presentare il progetto è sempre a Roseto vedete in basso nasce l'associazione a supporto dei malati oncologici proseguiamo siamo a Silvi nessuno detta legge sugli affari di Silvi il sindaco Scordella risponde alle critiche di partecipativa di Pineto sulle zone dunali dell'area marina protetta torniamo a Roseto degli Abruzzi classe dell'istituto Saffo premiata dalla Mondadori al concorso sul nuovo devoto Oli ancora Roseto alla fine sindaco ha dovuto darci di nuovo ragione Ennio Pavone ex sindaco di Roseto attacca la giunta sulla decisione di esternalizzare diversi servizi di manutenzione proseguiamo pagina della cultura meditazione orale di coscienza civile reading su Pasolini al circolo della Rosa di Teramo con Franco Gallina e Mimmo Speranza siamo così arrivati alle pagine dello sport l'ultima parte di mattino 6 come sempre l'apertura per quanto riguarda la pagina sportiva i quotidiani nazionali sportivi Gazzetta Corriere e Tutto Sport partiamo dalla Gazzetta dello Sport Inter-Raktic profumo d'intesa vedete il titolo nella parte alta della pagina incontro con il Barcellona offerti 35 milioni a 40 milioni l'affare potrebbe chiudersi parliamo anche di Coppa dei Campioni la Juve di Cristiano Ronaldo a Madrid contro l'Atletico e ora di fare la differenza dice Allegri parliamo anche del Milan l'effetto Paquetà ora i gol del Milan decollano a sinistra parliamo anche di Mijlovic tecnico del Bologna che fa 50 ho visto tutto ma rivorrei solo mio padre dunque compleanno per Mijlovic che è stato anche giocatore di Inter e Lazio proseguiamo Corriere dello Sport Icardi vista fiscale oggi consulto medico per stabilire se i problemi al ginocchio sono stati superati sempre gelo con la società e poi Juve a Madrid adesso tu Cristiano Ronaldo vuole tornare protagonista in Coppa dei Campioni vediamo anche tutto sport Icardi senza fascia non gioca falso compleanno Amaro e Vandanara manager nonché moglie del giocatore attacca qui si fa la Juve stasera l'andata degli ottavi di Champions League con i bianconeri in casa dell'Atletico Madrid passiamo allo sport di casa nostra lo sport sui quotidiani abruzzesi partiamo dal centro che però nella prima pagina ovviamente parla dell'impegno dei bianconeri questa sera negli ottavi di Champions la Juve si affida a Dybala stop per che dira per Aritmia e dunque non ci sarà questo giocatore importante per la Juventus che si affida proprio a Dybala spesso ispirato nelle gare di Coppa vediamo anche la prossima pagina Formula 1 Leclerc subito un lampo il Monegasco al debutto spinge la nuova Ferrari SF90 in testa mi sono emozionato vediamo anche Icardi non si allena vediamo questo il titolo che riguarda l'Inter che chiede i test medici per valutare le condizioni del giocatore Nerazzurro e poi parliamo del Pescara Pescara al quarto posto in classifica dopo la vittoria di Crotone Pescara che non si nasconde più obiettivo playoff se Monachello e Mancuso continuano a segnare c'è da essere positivi vediamo anche questo grafico di spalla che riguarda le coppie ed attacco più prolifiche della Serie B vedete che quella del Pescara con Mancuso e Monachello al secondo posto dopo quella inarrivabile del Brescia pensate Donnarumma e Torregrossa insieme hanno segnato 30 gol 21 l'ex Terramano 9 Torregrossa poi 18 gol per Mancuso e Monachello 13 Mancuso 5 e Monachello poi seguono Coda e Insigne del Benevento con 16 gol e via via le altre coppie intanto c'è stata l'assemblea di Lega Balata insiste presidente della Lega di Serie B per avere il VAR intanto slitta il calendario degli spareggi guardando la gara di sabato prossimo del Pescara in casa con il Padova ci sarà da fare i conti con l'indisponibilità sicura di Antonio Balzano che ha monito a Crotone è stato squalificato del grosso migliora ma resta in dubbio dunque qualche dubbio proprio per quanto riguarda l'assetto difensivo del Pescara soprattutto gli uomini da mandare in campo parliamo anche di Serie C del Teramo Sparacello e Rinato voglio i gol per la salvezza dice l'attaccante e intanto Zecca recupera in vista della gara di sabato prossimo a Ravenna ieri c'è stata la partita il recupero della partita tra Ternana e Rimini Diachite salva la Terrana a Rimini finisce 1 a 1 parliamo anche del campionato regionale di eccellenza del Zotti Farias via San Buceto si affida si affida a Savini cambia la panchina dei Viola il presidente Cacciagrano scelta dolorosa ma inevitabile dunque cambio in panchina nel campionato regionale di eccellenza parliamo anche di calcio a 5 dell'acqua e sapone K.O. a Pesaro con i nerazzurri contro gli arbitri Acqua e sapone ancora in testa alla classifica dilettanti la festa dei 60 anni oggi al di Febo di Silvi una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza della rinascita della famiglia più grande dello sport italiano in questa pagina c'è l'intervista al presidente della nega nazionale dilettanti Sibilia andiamo ancora avanti i bomber dei dilettanti il personaggio di Gennaro 36 anni tornato per la terza volta a Lanciano per scrivere la storia vediamo anche il basket Ricci orgoglio teatino dell'Italia sotto canestro l'ala della Vanoli Cremona un trofeo la vittoria della Coppa Italia che dedico dice alla mia famiglia vediamo poi in basso il basket di serie C Silver il 2 marzo inizierà la fase ad orologio vediamo lo sport del messaggero pillone pizzico di lucida follia il tecnico parla delle sue scelte giuste questa volta ma sono stati bravissimi i ragazzi intanto dopo Crotone trisse di gara in otto giorni perché lo dicevamo prima il Pescara giocherà sabato alle 15 allo stadio Adriatico con il Padova poi ci sarà l'infrasettimanale di martedì 26 febbraio alle 18 e Benevento e il sabato successivo ci sarà la gara turno successivo ci sarà la gara con lo Spezia e dunque 270 minuti importanti per il Pescara in chiave playoff intanto Campagnaro sugli scudi dopo il gol di tacco di Crotone vigore e quel tocco di Genio giocatore davvero infinito Campagnaro che sulla soglia dei 39 anni continua sempre e comunque a stupire in positivo attacca gli spazi del fino micidiale Mancuso Monachello il tandem comincia a lavorare meglio bene Marras quando blocca le ripartenze degli avversari Marras che nel ruolo di trequartista ha sicuramente convinto sia nella gara di Foggia che in quella dell'Ezio Scida di Crotone parliamo di Serie C Sparacello ora sogna il primo gol con il Teramo il 23enne punta ad un posto da titolare accanto ad Infantino anche a Ravenna ora devo migliorare dice stare più vicino alla porta per cercare di fare centro Lanciano tridente doc che fa sognare i tifosi parliamo del campionato di promozione l'attacco rosso nero le giovani speranze la forza del capolista Lanciano guidato da Del Grosso parliamo anche dell'Aquila parola d'ordine vietato entusiasmarsi prima categoria Aquilani ovviamente ad un passo dalla promozione vediamo in basso l'eccellenza Lucarelli Chieti Lanciato ora voglio tutti all'Angelini appello del tecnico ai tifosi in vista del finale di campionato e noi chiudiamo con le pagine dello sport del quotidiano la città si parla del Teramo in prima pagina sportiva gol i numeri sono dalla mia parte Sparacello tra i più positivi col Monza consapevole di cosa ancora gli manca l'attaccante dice deve segnare dunque Sparacello andrà alla ricerca del primo gol nella gara di Ravenna intanto vediamo da questo questa parte di articolo del quotidiano la città la gara di campionato tra Teramo e Ravenna in programma sabato prossimo alle 18.30 lo stadio benelli della città romagnola verrà diretta ad Alberto Fiero della sezione di Pistoia coadiuvato dagli assistenti Stefano Rondino di Piacenza e Francesco Santi di Prato dunque questa laterna arbitrale di Ravenna Teramo vediamo in basso la ginnastica con la ginnastica Teramo Libertas che continua a collezionare successi medaglie e piazzamenti per gli atleti Teramani e campionati regionali di artistica maschile e femminile di sabato scorso spazio anche al CSI con il nuovo volley che conquista la neve di Roccarasso siamo davvero giunti al termine dell'appuntamento di oggi del 20 febbraio con Mattino 6 nostra rassegna stampa che come sempre tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento alla prima edizione del TG6 alle 14 buona giornata